Siamo qui con Paola D'Alessandro Bendu, sono Paola D'Alessandro Paola D'Alessandro e vabbè loro sono i miei compagni di viaggio e di avventura Che sono? Li conosciamo? Samuele Pavia Batteria Giorgio Malfatti E cosa suoni? Chitarra Chitarra E tu canti il basso? Cosa fate? Una versione Novara's Day Doors? No il basso a volte c'è, a volte non c'è, ne cerchiamo un pochettino, sono un pochino sparsi per tutta Novara Sì, sì Bene, proponete? Proponiamo tre miei inediti e tre cover Volete sapere i nomi delle cover? No, veramente sono più interessanti gli inediti Cioè, che sono in italiano, in inglese, da dove nascono? No, sono in italiano, interamente scritti da me E il principale che presento oggi è Zenzero Limone Che è il singolo che sto lanciando in questo periodo E può essere trovato su tutte le piattaforme digitali E penso che sia anche in onda sulla vostra televisione, sul vostro canale Quindi restate sintonizzati così magari lo beccate ogni tanto Bene, quindi a questo punto non resta che ascoltare qualcosa Va bene, grazie mille ragazzi Grazie mille ragazzi